24 marzo 2014 siamo qui nel fiume savas come potete vedere ingrossato moltissimo per le piogge di questi giorni abbiamo un temerario atleta che scenderà giù per lo scivolo forse ecco forse cosa ne pensi ti senti carico? sono carichissimo l'acqua è alta ho un sacco di gente da fare il tifo abbiamo anche due telecamere quindi see you later grazie a tutti grazie a tutti